partete chassi scarta e rimane largamente arretrato mentre in vantaggio si porta a Marganta nei confronti di Northern Ireland quindi Excellent Rider che ora risale in seconda posizione poi Maisueno è staccatissimo segue chassi lungo la curva Marganta prosegue in vantaggio Excellent Rider in seconda posizione davanti a Northern Ireland in coda Maisu Maisueno Cavalli ora in retta d'arrivo a Marganta si mantiene leggero vantaggio spostandosi da o seccato che lascia libero per Northern Ireland mentre a centro pista avanza Excellent Rider quindi alla corda Northern Ireland che attacca a Marganta a largo Excellent Rider e dietro i primi tre a largo cerca di inserirsi anche a Maisueno siamo a 300 dal palo a Marganta è attaccata da Excellent Rider all'esterno più a largo Misueno per linee interne stenta a Northern Ireland nel tratto finale Amarganta attaccata a fondo da Excellent Rider che sta passando nel finale Excellent Rider su Amarganta poi Maisueno e Northern Ireland andiamo a rivedere le immagini con Mirko Mimocchi in seda Exend Rider che nel finale piega di mezza lunghezza precisa a Marganta al terzo posto Mi Sueno quindi 5-3-4 il probabile ufficioso arrivo della terza e la comunità di Napoli 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 e la comunità di Napoli